buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi un video un po particolare un po diverso dal solito cerco solo di rispondere alle tante domande che mi fate per quanto riguarda dove acquistare il nocciolino di oliva il nocciolino di sansa vergine quindi in questo video cercherò di riassumere un po alcuni shop che ho trovato su internet e con i quali lo ribadisco non ho alcun rapporto commerciale di nessun tipo loro non conoscono me io non conosco loro ho semplicemente fatto una ricerca ho trovato un po di rivenditori che ce l'hanno disponibile e che hanno il prezzo in chiaro ho fatto un articolo e adesso faccio un video quindi la mia raccomandazione è se guardate questo video se vi interessa il nocciolino contattateli e guardate se è ancora disponibile e a che prezzo perché ovviamente le cose possono cambiare eccoci sul canale allora dove comprare il nocciolino di oliva il nocciolino di sansa vergine in realtà breve precisazione soltanto su che cos'è il nocciolino se siete alla ricerca di un'alternativa economica al pellet il nocciolino al pari di altre biomasse è ecologico al 100% si ottiene dalla sansa vergine della spremitura delle olive mediante centrifugazione ha una forma granulosa contiene poca umidità si imbussa si trasporta esattamente come il pellet e soprattutto si innesca esattamente come il pellet non dovete cambiare nulla per quanto riguarda l'accensione ci sono alcune cose da guardare come vi dicevo nell'altro video ad esempio la dimensione dei fori del bracere se sono superiori ai 3 mm non va bene perché il nocciolino ci passa attraverso quindi bisogna modificare il bracere però per modificare il bracere dovete essere sicuri che non sia autopulente di quelli classici vi riporto qui qualche immagine delle modifiche che ho fatto io qualche anno fa su una caldaia pellet normalissima e l'ho utilizzata al nocciolino per un paio d'anni poi ho cambiato tipologia di caldaia ho comprato una policombustibile e quindi ho risolto il problema alla radice l'interesse per il nocciolino è aumentato negli ultimi anni visto il costo esorbitante in un sacco di pellet che oggi un sacco da 15 kg va dagli 8 ai 12 euro immaginiamo quello che ci sia dietro immaginiamo anche che ci sia un pochino di speculazione fatto sta che comunque siamo arrivati a 12 euro al sacco e quindi è improponibile allora io utilizzo il nocciolino da molti anni l'ho utilizzato sin dall'inizio ho fatto esperienza un po' con il nocciolino rispetto al pellet a volte utilizzo anche qualche sacco di pellet me lo avevano regalato come dicevo nell'altro video l'inverno scorso quindi qualcosa ho utilizzato pro e contro dell'uso del nocciolino e poi andiamo al fulcro un po' di questo video il nocciolino sporca di più del pellet il nocciolino fa un odore diverso del pellet quindi se abitate in condominio potrebbe non far piacere questo tipo di odore soprattutto in accensione perché poi a regime l'odore non si sente più ed è un pochino più difficile da reperire ecco perché ho fatto questo video ed ecco perché troverete l'articolo sul blog dove ho visto che vi state rivolgendo per cercare un po' di rivenditori allora io semplicemente cosa ho fatto ho cercato su internet un po' di rivenditori come vi dicevo all'inizio del video non li ho contattati non ci conosciamo quindi non garantisco né la bontà del prodotto né altro però è un servizio che mi sono sentito di fare perché molti di voi magari hanno poca dimestichezza con internet con i motori di ricerca mi rendo conto che in questo momento è importante darsi una mano in qualche modo allora prima di dirvi dove acquistarli vi dico soltanto un paio di cose ancora allora come si vende il nocciolino il nocciolino si vende o in sacchi da 10 kg da 15 da 20 25 kg li imbustano e poi li mettono su dei pallet che vi portano fino a casa quindi quando farete fare un preventivo chiedete anche quanto ammontano le spese di spedizione perché incidono parecchio parliamo di 120 150 euro a pallet ogni pallet contiene 66 o 70 sacchi quindi sono circa 2 euro in più a sacco di spedizione ecco a quel punto dovete farvi due conti l'altra cosa molto molto importante ma questo vale un po' per tutti gli acquisti che fate in rete ma soprattutto per importi del genere non pagate mai con bonifico anticipato mai non pagate mai con carta di credito in anticipo ma fatevi aiutare se non siete capaci collegate la vostra carta di credito al conto corrente su paypal pagate attraverso paypal perché in caso di problemi non vi arriva la merce vi arriva difettata vi arrivano i sacchi rotti potete aprire una controversia con paypal e paypal si fa carico di portare avanti la vostra controversia e in caso di truffa conclamata vi ridà i soldi che avete speso io ci sono passato più di una volta e paypal veramente è importante da utilizzare perché può fare la differenza tra perdere i soldi e non perderli un'altra cosa che potete fare è pagare alla consegna vi arriva la merce e voi pagate potete pagare con la carta di credito addirittura molti corrieri l'accettano o pagare in contanti quello lo decidete voi non pagate mai in anticipo mi raccomando perché le truffe in questo periodo si stanno moltiplicando perché la gente se ne approfitta non tutti ovviamente allora arriviamo un po' al nocciolo della questione ho identificato al momento quattro rivenditori sono i primi che mi sono usciti che hanno i prezzi esposti il primo è Sirolli sono in ordine parso non ho un ordine particolare con cui li ho identificati quindi il primo è Sirolli che ha al momento sul sito un pallet da 65 sacchi da 20 kg l'uno a 325 euro più trasporto quindi bisogna contattarlo per sapere un po' i costi di trasporto il secondo è Caldoliva questo è l'unico dal quale ho acquistato qualche anno fa un paio di pallet mi sono trovato abbastanza bene ha 66 sacchi da 15 kg l'uno a 399 euro ovviamente da aggiungere le spese di spedizione per gli amici del sud abbiamo Sicil Pellet che ha 60 sacchi da 25 kg a 300 euro più le spedizioni l'ultimo della lista è il Frantoio Saporito che al momento di fare l'articolo aveva i prezzi esposti adesso non ce li ha più quindi non lo cancello però magari se vi interessa contattatelo a volte le cose cambiano giorno per giorno quindi come vedete non disperate se non lo trovate subito in quanto il nocciolino di oliva ovviamente deriva dalla molinatura delle olive la raccolta delle olive inizierà a ottobre con punte di novembre quindi quando è novembre dicembre avremo di nuovo a disposizione il nocciolino mi rendo conto che saremo già in inverno in autunno inoltrato in inizio inverno tenete duro e più di questo è difficile da fare io mi hanno a mano che trovo altri rivenditori che il prezzo esposto lo inserisco sul blog magari faccio poi un aggiornamento e lo ripubblico sui miei social e cerchiamo di darci una mano così vi ricordo che sul blog ci sono ampi approfondimenti su come modificare le stufe caldaia pellet io l'ho fatto per questo ve lo dico e le modifiche riguardano sia ovviamente il bracere che dal punto di vista elettronico alcuni settaggi per la velocità della coclea e la velocità del giro fumi sono due parametri importanti da modificare io avevo trovato un buon compromesso ma ho scritto tutto sull'articolo quindi vi invito a guardarlo vi lascio qui un'anteprima dell'articolo dove non arrivate voi fatevi aiutare non tecnico ovviamente ho pubblicato anche ultimamente un video su quanto sporca il nocciolino di oliva e è stato molto apprezzato perché è una cosa da sapere quanto sporca il nocciolino di oliva in combustione rispetto al pellet io come dicevo una caldaia polivalente tre accensioni al giorno due ore per ogni accensione quindi sei ore al giorno circa consumo un sacco e mezzo due sacchi da 15 kg al giorno e la pulisco due volte all'anno quindi vi faccio vedere qui uno spezzone del video di pulizia almeno vi rendete conto rispetto a quello che sporca il vostro pellet cosa vi aspetta bene tutto per questo video un po particolare se l'avete trovato utile come format ditemelo perché posso trasformare molti articoli in video con un montaggio del genere mi rendo conto non è il massimo ma spero che siano informazioni utili visto ci avviciniamo in questo caso all'inverno grazie per essere stati con me anche oggi inoltrate il video ai vostri amici se hanno lo stesso problema del riscaldamento inoltratelo sui vostri social fate girare un po la voce io sono a disposizione di tutti dove posso arrivare vi aiuto e cerchiamo di tenere duro per questo inverno vi auguro una buona giornata ci vediamo la prossima settimana